E per quanto riguarda l'attività sportiva di base, continuerà solo quella dell'esporto non da contatto e comunque al di fuori di palestre e piscine. Sono sospesi anche tutte le competizioni dello sport, tranne quelle professionistiche a livello nazionale. Chiudono palestre, chiudono palestre, chiudono palestre. Guarda, guarda, in tv c'è di nuovo il presidente, il suo nome con te è un decreto fa per te. La palestra è chiusa ormai di contatto e il volley sai, ma il campionato che farò è di interesse nazionale, forse spero. Mila e Sciro non giocano più a pallavolo, dp, c, m, il campionato non si sa se c'è. Mila e Sciro, due cuori senza pallavolo, Sciro senza Mila da solo si allenerà. Sempre ascolto il TG, che ansia sti decreti, sempre chiusi così, per il DPCM. Chiudono palestre, chiudono palestre, chiudono palestre, chiudono palestre. Con la squadra ti allenerai, forse dopo Pasqua, ma in forma individuale puoi far tutto quel che vuoi. Certo all'aperto sai fa un po' freddino ormai, primo poi mi ammalerò e vai con il tampone, tampone Sandrone. Mila e Sciro risultano positivi, niente paura, sono asintomatici. Mila e Sciro sono in quarantena, Sciro senza Mila, amore più non è. Sempre, sempre così, sanifica i palloni, litri, sempre di più, di gel per le mie mani. Sempre mascherina, che mi protegge il mento, norme, sempre di più, ma poi chiudete tutto qui. Mila e Sciro, come fanno senza pallavolo? DPCM, ma che razza di decreto è? Mila e Sciro, due cuori senza pallavolo, Sciro e Mila, Cristina non la canta più.